Sullo sfondo della figura di Tina Anselmi, partigiana cattolica e donna politica, a cui è stato dedicato il libro di Anna Vinci, Storia di una passione politica, presentato al maschio angioino di Napoli, le vicende del Partito Democratico Campano, con la segretaria regionale Assunta Tartaglione, che dopo le parole di Matteo Orfini, circa un azzeramento della compagine partitica nel capoluogo campano, si è affidata ad un comunicato stampa per esprimere la propria posizione, dichiarando di difficile comprensione attacchi ai vertici territoriali da chi è chiamato ad un ruolo di arbitro. Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, presente al maschio angioino, parla invece delle vicende nazionali, mitigando le polemiche di questi giorni, frutto a suo avviso di un consueto dibattito da clima di congresso. Parole chiare sull'Europa e su quanto l'Italia creda fortemente ad una Unione che dovrebbe passare anche per una difesa comune, con la proposta di rendere l'Accademia Napoletana dell'Annunziatella un luogo di formazione anche per gli ufficiali di altri paesi dell'Unione. Fra le proposte di cooperazione rafforzata che come Italia stiamo promuovendo, in particolare con i principali alleati con cui stiamo lavorando, quindi Germania, Francia e Spagna, ma poi ovviamente con la disponibilità di aprirla a livello europeo in senso globale, c'è quello di immaginare che un polo della formazione degli ufficiali europei possa essere in Italia e su questo abbiamo candidato l'Annunziatella perché è la scuola più antica di formazione e quindi ci sembra particolarmente importante unire la difesa del futuro con la sua tradizione più nobile.